Sei emozionata per la scuola? Conoscerai nuovi amici? Questo implicherebbe che ne avessi di vecchi. Va bene, basta! Fate silenzio! Ehi, ci ha fatto piangere tutte in un modo o nell'altro. Ti va di vederci dopo la scuola? Questa è una cerimonia per celebrare te. Perché dovreste celebrare me? Da ora sei una di noi. Abbiamo oltrepassato il limite. È molto più grande di noi. Mi sento diversa. No!